In realtà mi chiamo Ernesto Ma come? Barbuto non è il mio vero cognome Barbuto è sempre piaciuto Prima o poi mi crescerà la barba Questo non è possibile Chi guarderà questo video lascerà il like e mi seguirà E andiamo! Giocare alla Playstation è uno sport In realtà i miei veri genitori da piccolo mi hanno abbandonato Grazie